Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo all'avvio del gioco tipo quando state caricando c'è il prologo e tutte queste cose qua, schermata iniziale ma non funziona quindi non si avvie può essere una scritta tipo una scritta cinese, una scritta inglese e quindi chiedere supporto direttamente a quelli di Black Meat Wukong quindi in questo caso mi ha portato direttamente su queste pagine qua dove tu puoi comprare il gioco, qui c'è scritto supporto giocatore ovviamente mi ha portato così su questa pagina qua per quelli che hanno ricevuto un problema sul crash occasionale all'avvio del gioco quindi se esegue il gioco su Steam o Web Game prova a selezionare Black Meat Wukong come modalità compatibilità in questo caso andiamo direttamente tasto destro sul gioco, mostra attropazioni, proprietà, compatibilità e provare a eseguire il programma come Windows 8 oppure Windows Vista oppure direttamente Windows Vista Service Pack.2 se no in questo caso togli così questa spunta e metti disabilità ottimizzazione schermo intero esegui questo programma come amministratore una volta fatto modifiche impostazioni dpi elevati e qua sopra applicazioni sistema avanzato e fai ok una volta fatto fai applica torniamo così sulla pagina se esegui il gioco su Epic Games Store in questo caso diventare sui tre puntini nella libreria del gioco quindi sui tre puntini vai su gestisci, opzione di avvio e abilitarlo per esempio tipo per farti un esempio sui tre puntini gestisci ed eccolo qua opzioni di lancio stessa cosa lo fai direttamente su Steam direttamente su quella rotella che vedi sulle impostazioni sulla rotella su generali e metti proprietà ed eccolo qua su generali opzioni di avvio e inserisci così questo comando qua save render lo fai anche su Epic Games trattino save render una volta fatto riavvia il tuo launcher o Steam o Epic Games una volta fatto andiamo direttamente su Windows Defender protezione Firewall della rete consente app tramite Firewall se avvia il gioco e ti dice di dare il consenso così alla rete vai direttamente su modifiche e impostazioni consenti un'altra app foglia vai sul desktop prendi così il tuo gioco quindi devi andare nella cartella del gioco e prendere blackmeetwkong.exe e fai apri e fai aggiungi scendi fine giù fino a trovare blackmeetwkong se me lo da ed eccolo qua consenti così la rete privata e pubblica e fai ok se non dovesse funzionare vai direttamente su protezione da virus e minacce gestisci impostazioni scendi fine giù fino a trovare esclusioni e fai sì aggiungi un'esclusione cartella vai a prendere così la cartella del gioco ed eccolo qua blackmeetwkong seleziona la cartella e metti la cartella nel gioco così facendo windows defender non blocchere la cartella del gioco rimuovendo alcuni file se non dovesse bastare ci sono i driver per AMD per quelli che hanno una scheda grafica RX 7900 puoi scaricare così i driver per la tua scheda grafica trovi tutto sul supporto della pagina del gioco come puoi vedere le ultime notizie sono del 20 di agosto domande frequenti sulla grafica del gioco e problemi di crash come puoi vedere c'è anche quelli del chi ha un processore intel e ha questi problemi all'avvio scarichi così questo driver per tutti i processori intel che ha e quindi per tutti è compatibile con tutti amd poi una volta fatto andiamo su grafica impostazioni grafica ed eccolo qua vai su sfoglia vai nella cartella prendi il gioco e lo aggiungi qua fai opzioni prestazioni elevate e fai salva e poi chiudere questa pagina non dovesse bastare in descrizione ti ho lasciato anche dei link che ti porteranno così sulla pagina la pagina direttamente di visual studio 2015 fino al 2022 fino al 2022 clicchi qua e scarichi il driver e lo installi quindi per 86 e per 64 installi questi due driver una volta fatto riavvia il tuo computer non dovesse bastare ci sono anche gli altri link che ti porteranno sulla pagina per scaricare il programma nvidia app per ragionare così due driver ed eccolo qua ho un aggiornamento del 20 agosto che ho scaricato e adesso devo solamente installarlo puoi anche fare così aggiorni per vedere se ci sono degli aggiornamenti da fare scarichi e installi un'altra cosa che ti consiglio di fare è andare direttamente su steam qua vai su impostazioni vai su download ecco c'è scritto pulisci le cache dei download pulire le cache potrebbe salvere problemi di download o di avvio delle applicazioni quindi può essere uno di questi errori qua su steam quindi pulisci la cache una volta eseguito così la pulizia della cache devi solamente fare l'accesso sul tuo account steam mentre a me la cache mi serve perchè ho alcune impostazioni salvate e tutte queste cose qua quindi non mi va di rifare tutto da capo se tu invece hai solamente steam e hai aperto quindi hai scaricato solamente il gioco puoi fare una pulizia delle cache fare di nuovo il login ed ecco di qua quindi sei sul tuo account steam e puoi aprire il gioco senza problemi quindi pulisci le cache un'altra pagina che vi consiglio è il software AMD Adrenaline Edition che è come Nvidia quindi scarichi la piattaforma cerchi gli aggiornamenti da fare e poi installi ovviamente attraverso questo errore non ci dice la fonte dell'errore ma ci dice direttamente di andare sul loro sito vedere se ci sono degli errori che sono compatibili con queste informazioni qua leggere così questi articoli e vedere se si può trovare una soluzione ovviamente più di questo non posso fare altro se non ci dicono la fonte proprio la fonte adatta su quella schedina degli errori tipo questa qua che vedi sullo schermo ci dice direttamente di andare sul loro sito quindi quello che vi bisogna fare è aggiornare i driver su windows aggiornare i driver della scheda grafica aggiornare i driver del tuo processore provare a eseguirlo come amministratore oppure disinstallare il gioco oppure fare la verifica al gioco più di questo non posso fare altro quindi fammi sapere se hai risolto cercherò di realizzare altre guide a riguardo quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao ciao